Allora, sulla 3, la parte della PlayStation 2, poi l'hanno rimodellizzato sulla PlayStation 3 stessa, con, diciamo, nuova grafica e nuovo tutto. Poi sulla 4, il portato sul test andersi, quello della PlayStation 2, il porting, e ora dovrebbero fare dalle master di versione, anche se io aspetto GTA 4, la versione, quella rimasterizzata.